Sì, è attivo per tutti i cittadini e per tutti coloro che lo vogliono utilizzare un servizio per la segnalazione degli abbandoni nella città di Prato. Nel centro storico noi siamo in grado di rimuovere gli abbandoni in tre ore, fuori dal centro storico, fuori dalle mura in sei ore. Questo per quanto riguarda i rifiuti domestici, per quanto riguarda invece gli abbandoni dei tessili, noi siamo in grado di rimuoverli in 48 ore. Come avviene tutto questo? Attraverso l'app Alia App che è scaricabile per tutti i telefoni, Android e iPhone e attraverso una profilazione molto semplice in cui si rimane sempre poi collegati, si fa una foto, georeferenziandola e si manda attraverso l'app ad Alia. Noi saremo in grado appunto di gestirla in questi tempi, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Un recupero che un domani, entro il 2026, può essere una risorsa per le aziende dal prodotto dei cascati del tessile? Sì, in realtà tutta la raccolta è destinata al recupero e viene destinata ai nostri impianti, l'impianto di selezione. Per quanto riguarda gli abbandoni purtroppo dovremmo appunto selezionarla, ma per quanto riguarda invece i tessili attiveremo dei servizi anche a un demanda che poi andranno ad alimentare gli impianti, l'app del tessile che stiamo realizzando proprio qui a Prato.